buongiorno a tutti allora dovrebbero essere delle call news ma sono delle call news un po' particolari perché vi spiego allora una è una lettera di un professore che ho trovato qualche giorno fa su facebook l'ha condivisa una persona che conosco mi è piaciuta particolarmente riguarda il bullismo il cyberbullismo il bullismo eccetera perché purtroppo ve ne parlerò successivamente quindi non vi anticipo nulla una un ragazzo una ragazza dopo non voglio aggiungere nulla è generico diciamo che un ragazzo una ragazza tenta il suicidio perché appunto viene bullizzata e causa questo si butta giù dal balcone fortunatamente non muore però e quindi questo professore ha scritto oggi un ragazzo barra ragazza della mia città ha cercato di uccidersi generico poi ve ne parlerò successivamente ha preso e si è buttata dal secondo piano no non è morta ma la botta che ha preso ha rischiato di prenderle la spina dorsale per poco non le le o gli succedeva qualcosa di forse peggiore della morte la condanna a restare tutta la vita immobile senza poter comunicare con gli altri normalmente adesso sarete contenti aveva scritto questa persona parlava ai suoi compagni cose che ahimè stanno succedendo un po troppo spesso e adesso parla questo professore e allora io adesso vi dico una cosa e sarà un po duro vi avverto ma c'è sta cosa dentro ed è difficile lasciarla lì quando la finirete punto di domanda quando finirete di mettervi in due in tre in cinque in dieci contro uno quando finirete di far finta che le parole non siano importante che siano solo parole che non abbiano conseguenze e poi di mettervi lì a scrivere quei messaggi gli olettisi i messaggi che siete capaci di scrivere tutte le vostre trota di merda di m sapete non è trota ma è un'altra parola m i vostri avete la mamma che fa quel mestiere antico sto edulcorando i vostri devi andare nell'altro mondo quando la finirete di dire ma sì io scherzavo dopo essere stati capaci di scrivere non meriti di esistere quando la finirete di ridere e di ridere così forte quando passa la ragazza grassa quando la finirete di indicare col dito il ragazzo che ha il professore di sostegno quando la finirete di dividere il mondo in fighi e sfigati che cosa ancora deve succedere perché la finiate che cosa aspettate che tocchi al vostro compagno alla vostra amica a vostra sorella a voi e poi voi voi genitori sì voi che i vostri figli sono quelli capaci di scrivere certi messaggi o quelli che ridono così forte quando la finirete di chiudere un occhio quando la finirete di dire ma sì ragazzate quando la finirete di non avere idea di che diavolo ci fanno otto ore al giorno i vostri figli con quel telefono quando la finirete di non leggere neanche le note le comunicazioni che scriviamo sul libretto personale quando la finirete di venire da noi insegnanti una volta l'anno se va bene quando inizierete a spiegare ai vostri figli che la diversità non è una malattia o un fatto da deridere quando inizierete a non essere voi i primi a farlo perché da sempre non sono le parole ma gli esempi gli insegnamenti migliori e mi rifaccio anche a quel video che avevo fatto sul dare le buone esempio per dare la buona educazione comportamento eccetera eccetera proseguiamo comunque con la lettera di questo professore perché quando un ragazzo una ragazza prova a buttarsi di sotto non è solo un ragazzo una ragazza di pochi anni che lo sta facendo siamo tutti noi e se una ragazza o un ragazzo di quell'età comunque siamo età scolare elementari barra medie decide di buttarsi non lo sta facendo da solo o sola una piccola spinta arriva da tutti quelli che erano lì non hanno visto non hanno fatto non hanno detto e tutto noi proprio tutti siamo quelli che quando succedono cose come questa devono vedere fare dire anzi urlare una parola una sola che basta ecco detto questo che spero mi auguro bada a chi di dovere quindi visto che i ragazzi che mi seguono so che hanno tra i 16 e 24 anni l'ottanta per cento dei miei follower tra i 16 e i 24 anni di cui io sono ben felice perché vuol dire che sono ancora giovanile magari visto che hanno anche un'ottima intelligenza perché quando ci raffrontiamo vedo dei ragazzi con intelligenza che non vuol dire essere supercolti ma vuol dire saper usare bene con buon senso quello che manca a certe persone quello che imparano eccetera comunque veniamo alla seconda notizia che farà arrabbiare parecchio parecchio ma proprio parecchio i tifosi di una certa squadra molto tifata in italia ambasciatore non porta pena ma la cosa divertente no niente vabbè andiamo a leggere leggiamo no perché pensavo avesse un altro cognome invece no non posso è un cognome normalissimo l'escapo della procura della repubblica di napoli giandomenico lepore è tornato a parlare di calciopoli e di quanto è accaduto durante le masse indagini sul mondo del calcio queste le sue parole a radio punto nuovo riportate da tutto sport quindi attenzione queste parole lui le ha dette a radio punto nuovo però le ha riportate tutto sport che sapete benissimo da che parte sta vediamo cosa ha detto il che l'escapo della procura volevamo cambiare il calcio ci bloccarono avevamo trovato il modo di rifondare il calcio banto un merito consapevole o inconsapevole volente o nolente quello di aver mandato la juventus in serie b volevamo rinfondare il calcio corrotto quell'indagine doveva colpire tutte le squadre compreso il napoli che poteva essere coinvolto la seconda squadra che doveva essere esaminata l'inter ma l'espresso pubblicò le intercettazioni ed i telefoni iniziarono a tacere fu un modo di fermare volevano evitare che si indagasse su tutto il calcio se avessimo fatto dieci anni di intercettazioni e non due forse la juve si sarebbe vista revocata altrettanti scudetti questione juventus napoli il protocollo fitch mi sembra esagerato e sbagliato ma questo stesso proprio collo ha una clausola dove parla di interventi di autorità statali e locali allora se la asli napoli è intervenuta di fatto dovrebbe essere automatico rinvio per la prevalenza del provvedimento della salute pubblica sul protocollo la juventus se c'era come presidente gianni agnelli non avrebbe perso l'occasione di accordarsi per il rinvio della gara salvaguardava anche gli interessi della juventus stessa ha ragione il presidente de luca perché salvaguardava la stessa juventus 3 a 0 a tavolino se il napoli fa ricorso ovviamente vince c'è ancora tanto da fare per pulire il calcio italiano non so cosa ci aveva da ha detto che dovevamo essere esaminati ma da qua a vedere che cosa sarebbe successo ce ne vuole visto che facchetti veniva considerato il pennellone e nelle intercettazioni che si sono sentite non l'ho mai sentito dire mandaci quell'arbitro che vinciamo sicuro chiedeva semplicemente nell'intercettazione quella famosa quella famosa che ci hanno fatto due palle così lui che cosa ha detto ha detto con quest'arbitro ci ha ritratto dieci volte otto volte ha sbagliato a nostro sfavore se magari non sbaglia più a nostro sfavore ci fa un favore quello era il favore che non sbagliasse a nostro sfavore sbagliasse signori non che non fischiasse a nostro sfavore che non sbagliasse comunque peccato che non hanno proseguito così almeno ne uscivamo ancora più puliti mentre loro l'ha detto chiaro tondo se avessero proseguito dieci anni dieci scudetti che saltavano questa è la differenza noi siamo loro sono l'alfa dei ladri noi siamo l'omega gli sfigati quelli che al massimo rubano una mela al supermercato o il fiore avete presente la pubblicità del fiore no dell'uomo che prende il fiore e glielo dà la fidanzata che ha rubato una margherita roba ridicole quelle fanno le rapine a mano armata in confronto è il confronto comunque giustamente come ha detto se ci fosse stato gianni agnelli per quanto a me è sempre stato sui testi era un uomo di cultura era un uomo di buon senso cosa che manca e quindi è vero che la c'è la loro frase no che per di più è di boni perti altro uomo di buon senso che non ce ne sono più anche se era giuventino purtroppo lui e prisco erano altra categoria da adesso ci abbiamo sappiamo benissimo cosa abbiamo ma dappertutto adesso forse noi abbiamo finalmente una società un attimino più inquadrata precisa eccetera staremo a vedere cosa combineranno ma i cinesi sono gente che lavora e fa silenzio quindi staremo a vedere detto questo io so già che questo bel video crea tante belle battutine battutucce battutacce fate robis io vi ho detto quello che ha detto l'epore purtroppo qua si è ricominciato a parlare di calciopoli un'altra volta io spero di no io ho detto dopo il 2006 per me tutto chiuso si riparte da zero e chi vince merita di vincere e il resto di quest'idea gli altri no facciano pure detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao